Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video al Gammeco, dedicato questa volta alla scoperta di OK61, una tastiera Echo Keyboards progettata e realizzata appositamente per chi inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica. Vediamo da vicino le caratteristiche e le funzioni principali di OK61. Una delle più importanti è sicuramente la tastiera 5 ottave, appunto 61 tasti di dimensioni standard, sensibile alla dinamica, quindi perfetta per lo studio. Aspetta aspetta, che cosa vuol dire sensibile alla dinamica? Ah scusa, ho usato un termine tecnico, vuol dire che è in grado di suonare piano e forte come lo strumento omonico. E grazie al tasto touch, possiamo regolare la sua sensibilità su tre livelli, adattandola al nostro modo di suonare. OK61 ha 129 suoni campionati, molto belli, con tutti i timbri strumentali come pianoforti, piani elettrici, flauto, tromba, eccetera, che possiamo selezionare rapidamente con questo tastierino. premendo il tasto sustain, possiamo prolungare il suono selezionato. OK61 ci permette di fare molto di più, possiamo infatti sovrapporre due suoni tra loro. Oppure, dividere la tastiera in due parti con un suono diverso fra le due mani. Possiamo inoltre arricchire ogni suono con due effetti, riverbero e chorus. che aggiungono profondità e spazialità. OK61 ci mette a disposizione una serie di funzioni che possono aiutarci nello studio, come ad esempio il metronomo. Con l'icona sul display che ci guida anche visivamente. Oppure, per divertirci di più, avere l'accompagnamento di un batterista virtuale, sempre preciso. ma sentite ora cosa accade, premendo questo tastino, abbiamo il supporto di un'intera band. Su OK61 abbiamo infatti 100 accompagnamenti automatici, detti style, per ogni genere musicale, dal pop, al rock, alla dance, al folk... Anche questi facilmente selezionabili, che forniscono un valido supporto musicale a ogni nostra esecuzione. Possiamo animare il nostro brano partendo con un'introduzione automatica. inserendo dei fili e anche un finale, il tutto premendo semplicemente i tasti sul pannello. La sezione d'accompagnamento ha il volume regolabile per bilanciare a piacere il timbro della mano destra. Premendo il tasto setup, possiamo regolare una serie di parametri come il volume, il pan dei suoni solisti, lo split, il tipo e il livello degli effetti, addirittura un equalizzatore e molto altro. OK61 ci offre poi una serie di importanti funzioni che aiutano a migliorare il nostro studio, come ad esempio il registratore. Semplicissimo da usare, basta premere il tasto reg e iniziare a suonare. Una volta finito premiamo di nuovo rec e play per riascoltare. Oppure possiamo creare facilmente una base, solo con gli accordi e l'accompagnamento, per poi suonare la parte solista. La funzione Learn, invece, è un tutor virtuale vero e proprio, che ci guida nello studio dei 100 brani didattici già memorizzati. E la possibilità di dividere la mano destra dalla sinistra. Oppure il chord dictionary, che ci aiuta nell'esecuzione degli accordi, visualizzando sul display le note che compongono i principali tipi di accordi. OK61 possiede un'efficiente amplificazione stereo, che unita alla doppia alimentazione da rete elettrica con adattatore in dotazione e a pile consente l'uso della tastiera praticamente ovunque e in ogni condizione. Ah, quasi dimenticavo! La presa per cuffia permette di esercitarti senza disturbare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Con OK61 puoi unire lo studio con il divertimento musicale, usando un unico efficiente strumento. E con questo per il momento è tutto. Alla prossima!